Buonasera amici di Nova News 24. Cesara Buonamici oggi è stata ospite da Silvia Toffanina Verissimo per parlare del grande fratello che tornerà lunedì 16 settembre. Il cast è già stato tutto spoilerato, ma la giornalista dalla Toffanina ha comunque anticipato due concorrenti, Clayton Norcross e Lino Giuliano. Mi sono divertita moltissimo con Alfonso e quest'anno mi aspetto di divertirmi anche grazie ai personaggi che ci sono. Alcuni sono molto divertenti. Su tutti Lino Giuliano di Temptation Island. Lui è divertentissimo. Con otto puntate di Temptation Island ha conquistato tutti, è molto sicuro di sé, è sicuro di piacere. Evidentemente ha un riscontro nel pubblico femminile. Io penso che lui ci farà molto ridere, ne sono sicura. Fra le novità di quest'anno c'è anche l'arrivo di Beatrice Luzzi che Cesara Buonamici ha annunciato con professionalità. Nonostante le voci di un suo ipotetico malumore alla scoperta della notizia, ci sarà Beatrice Luzzi ed è una buona idea perché lei ha vissuto dentro quella casa. Ha vissuto intensamente. E può raccontare davvero cosa può succedere nella testa degli inquilini in quella situazione che non è proprio normale. Parliamoci chiaro. Specialmente quando dura mesi. Quell'esperienza stravolge il tuo carattere e ti porta all'esasperazione. Quindi chi meglio di lei può raccontarci cosa succede nella mente degli inquilini? Nessuno. È entrata per prima e uscita per ultima. È stata la vincitrice morale della scorsa edizione. Anche da lei mi aspetto molto. Amici e amiche, se vi è piaciuto l'articolo mettete il pollice in su e seguiteci sempre su Nova News 24. Grazie a tutti.